Bella questa immagine vero? Ebbene, l'ha generata l'intelligenza artificiale. In questo video parleremo infatti di un metodo che ha segnato una vera e propria svolta nella capacità dell'intelligenza artificiale di produrre del nuovo, nuove immagini, nuovi video, nuovi testi. Ora prima di entrare nel merito della descrizione del nuovo metodo, due parole riassuntive di quanto già spiegato nei video precedenti. Abbiamo spiegato come l'intelligenza artificiale poggia sulla realizzazione delle cosiddette reti neurali. Reti neurali che emulano in qualche modo il cervello, sono infatti costituite da un numero elevatissimo di nodi elementari che ricordano i nostri neuroni e tali nodi sono organizzati in livelli, in strati. Abbiamo il primo strato che codifica l'input alla rete, l'ultimo strato codifica l'output e poi abbiamo un certo numero di strati intermedi che realizzano l'elaborazione dall'input verso l'output. Livelli adiacenti sono collegati in maniera simile a come i neuroni sono collegati attraverso le sinapsi. I collegamenti fanno sì che lo stato, cioè il valore numerico per intenderci, i computer trattano con numeri lo stato di un nodo dipenda dallo stato dei nodi precedenti attraverso un calcolo che poggia su un valore numerico che viene associato a ciascun collegamento, a ciascuna sinapsi. Quindi il calcolo dello stato dei nodi viene calcolato di livello in livello fino ad aggiungere alla determinazione dell'output. Questa è una brevissima, concisa descrizione delle cosiddette reti neurali profonde. Ora, le reti neurali profonde sono costituite da migliaia e migliaia di nodi e di collegamenti e il loro corretto funzionamento dipende dalla determinazione dei pesi, cioè dei valori numerici associati ai collegamenti. Come fare allora a determinare tale valore? Immaginate quale improbo lavoro sarebbe per gli sviluppatori se dovessero essi determinare il valore di tali parametri? Ebbene no, per fortuna le reti neurali sono in grado di imparare. Abbiamo parlato già in altri due video dell'addestramento delle reti neurali e nell'ambito di questo video di nuovo facciamo una piccola sintesi che ci sarà di aiuto per proseguire nel nostro ragionamento. Ora, esistono due tipi diversi di reti neurali. Esistono le reti neurali che sono in grado di produrre del nuovo, per esempio, l'immagine di un gatto che non abbiamo mai visto. Perché? Perché questa immagine è stata creata per l'appunto dell'intelligenza artificiale. Reti neurali dunque generative. E poi esistono invece reti neurali che sono in grado di riconoscere un'immagine preesistente. Per esempio, nel caso di questa immagine, forniranno come uscita la etichetta gatto. Ecco, queste reti neurali, orientate quindi ad un compito di tipo classificatorio, vengono allestrate attraverso il cosiddetto apprendimento supervisionato. Esso consiste nell'alimentare la rete attraverso un elevatissimo numero di coppie, immagine e etichetta. Cioè un elevatissimo numero di immagini per le quali la classificazione è già avvenuta. Da chi? Da noi esseri umani che alimentiamo la rete web con le nostre immagini, con commenti, tag e quant'altro. Nel momento in cui la rete neurale ha come ingresso un'immagine e un'uscita già nota, essa sarà in grado di configurare i propri parametri in maniera tale che essi ne producano un'uscita che sia il più possibile vicina a quella desiderata. Insomma, in pratica, stiamo dicendo che fornire alla rete le coppie immagine e etichetta equivale a dare la possibilità alla rete di riconoscere le features, le caratteristiche di ciascuna immagine e separarle adeguatamente in un ipotetico spazio multidimensionale delle feature. Separandole accadrà che quando arriveranno poi nuove immagini la rete sarà in grado di collocare correttamente ciascuna nuova immagine in prossimità dell'immagine più vicina. Questo tipo di addestramento molto efficace quando l'obiettivo è il riconoscimento diventa inutilizzabile quando invece l'obiettivo è la creazione di qualcosa di nuovo. In questo caso quindi l'addestramento da utilizzare non sarà più di tipo supervisionato ma non supervisionato. E che cosa consiste tale tipo di apprendimento? Un metodo abbiamo già illustrato nello scorso video ed è il metodo che si appoggia sull'uso di un'altra rete neurale. Tale rete è un semplice classificatore binario, cioè una rete neurale in grado di riconoscere se un'immagine rappresenta un gatto oppure no. Chiameremo tale rete discriminatore. E che cosa succederà? Succederà che all'inizio la rete generativa non sarà in grado di produrre gatti come un bambino che non sa disegnare e quindi produrrà un'immagine che pura spazzatura. Tale immagine viene data in pasto al discriminatore il quale quindi sarà in grado di capire che l'immagine ricevuta in ingresso non rappresenta un gatto. Che cosa accadrà? Accadrà che discriminatore e generatore saranno in competizione nel senso che il generatore man mano che riceve il giudizio del discriminatore diventerà sempre più bravo e sino a riuscire ad ingannare il discriminatore. Insomma stiamo immaginando una sorta di competizione del tipo di guardie e ladri. Le guardie diventano sempre più raffinate nella propria tecnica e le guardie devono adeguarsi nel riuscire a distinguere banconote false da bere finché magari non si raggiunge un equilibrio. Un equilibrio secondo cui le guardie non sono più in grado di discriminare correttamente le banconote false da quelle vere e allora il gioco è finito. Ora illustriamo quanto detto con una semplice animazione. Abbiamo che la rete generatrice all'inizio genera delle immagini spazzatura e tale immagini vengono fornite come input alla rete discriminatrice assieme ad immagini corrette prese dal web, immagini di gatto e la rete discriminatrice sarà in grado correttamente di distinguere le immagini fake da quelle corrette. Tuttavia la rete generatrice imparerà dal feedback fornito dalla rete discriminatrice e quindi via via diventerà sempre più brava e ancora le nuove immagini vengono sempre comunque fornite alla rete discriminatrice mescolate con immagini corrette e riuscirà magari che alcune delle immagini fornite dalla rete generatrice tragano in inganno la rete discriminatrice che ricordiamoci commette anche degli errori sulle immagini corrette. Non esiste il tasso di riconoscimento al 100%, tuttavia come vedete ancora abbiamo un tasso di riconoscimento ben più elevato sulle immagini corrette. Insomma la rete generatrice non è ancora adeguatamente brava, tuttavia continua a far tesoro dei feedback forniti dalla rete discriminatrice e diventerà sempre più brava finché non si raggiunge un equilibrio per cui la rete discriminatrice avrà lo stesso tasso di errore per le immagini fake e per quelle reali. Generatrice, ora quello appena descritto è il metodo delle reti generative avversarie cui abbiamo dedicato un intero video e sono delle reti introdotte nel 2014 che hanno generato grande entusiasmo e che tuttora si adottano. Tuttavia sono molto energivore, immaginate due reti neurali in competizione, già la singola rete neurale insomma richiede non poca energia per funzionare, figuriamoci due reti in competizione. e poi non sempre sono efficaci nel raggiungere l'obiettivo. Insomma esiste un metodo più potente che andremo adesso a descrivere. Tale metodo si ispira alla fisica. La fisica che governa per esempio la diffusione del tè nella vostra tazza, nel liquido, nell'acqua in cui avete versato la bustina. Stiamo parlando della termodinamica del non equilibrio, del ramo della fisica cioè che descrive i fenomeni irreversibili. Ricordate la termodinamica, l'entropia, abbiamo fatto più di un video su questo argomento. Per intenderci è quel ramo della fisica che spiega come mai vediamo il tè diffondersi nel liquido, nell'acqua e non assistiamo mai al processo inverso, cioè all'acqua, al tè, tornare acqua limpida più bustina di tè intonza. I fenomeni irreversibili che possono essere rappresentati, per esempio, da una goccia di inchiostro che si diffonde nel liquido. Non accade mai l'inverso, cioè che dall'inchiostro diffuso si torni alla singola goccia. Ebbene per quale motivo? Ricordiamoci che la goccia è un aggregato di particelle e tale particelle hanno tra di loro dei negami non così forti, per cui quando la goccia d'inchiostro va nel liquido le particelle avviano quello che si chiama camminata casuale. Insomma le particelle sono libere di disporsi in qualsiasi configurazione all'interno del liquido e allora molto semplicemente il numero di configurazioni che corrisponde alle particelle tutte raccolte a costituire una goccia è di gran lunga ma di gran lunga inferiore rispetto al numero di configurazioni che corrisponde alle particelle diffuse nel liquido. Ed è un semplice calcolo statistico quindi che sancisce il fatto che la goccia si diffonda nel liquido e che non possa mai accadere, che sia estremamente improbabile che accada il contrario. Ora a prescindere dal punto preciso dove la goccia è caduta noi avremo sempre lo stesso esito, cioè avremo sempre che dopo un po' lo stato finale del sistema è costituito dalla diffusione dell'inchiostro nel liquido, una distribuzione cosiddetta uniforme. E il fatto che stati diversi iniziali portano lo stesso stato finale fa sì che osservando lo stato finale naturalmente sia impossibile capire, riconoscere, individuare quale tra i diversi possibili stati iniziali ha generato tale stato finale. Questo è in pratica il concetto di irreversibilità. Ora se io invece mi focalizzo su una particolare configurazione, per esempio la goccia che cade al centro della tazza, allora sono in grado di fare che cosa? Sono in grado di ricostruire via via, passo dopo passo, il percorso che è stato seguito dalle gocce e farlo sia in avanti che all'indietro. Cioè sono in grado di individuare un metodo numerico attraverso il quale descrivere la distribuzione di probabilità iniziale della goccia, che è ben più complessa rispetto alla distribuzione di probabilità finale, che è la semplice distribuzione di probabilità uniforme per cui le gocce sono equamente distribuite nell'abito della tazza. Ed è questo un metodo numerico che è stato introdotto nella fisica della termodinamica del non equilibrio che ha ispirato l'apprendimento non supervisionato delle reti generative, dando luogo al cosiddetto metodo di diffusione che adesso vado a spiegare. Allora supponiamo di voler tramite la rete generativa produrre una nuova figura di essere umano. Per farlo dobbiamo sapere come sono fatti gli esseri umani. Osservate per esempio queste immagini. Sono immagini che ci sembreranno un po' strane, un po' inerguate. Hanno cioè dei valori di altezza e di larghezza non appropriati. Queste invece ci sembrano immagini di esseri umani più consoni. Insomma stiamo tornando sul discorso fatto all'inizio di questo video delle features, delle caratteristiche che ha qualsiasi oggetto vogliate rappresentare. E le feature le possiamo rappresentare su un sistema di assi. Per esempio il caso specifico degli esseri umani, altezza e peso, e sappiamo che gli esseri umani hanno un'altezza e peso che rientra sicuramente in un certo range, non abbiamo mai un'altezza di 5 centimetri e un peso di un chilo. Non esistono esseri umani con queste caratteristiche. Viceversa potremmo avere delle formiche che hanno caratteristiche di altezza e peso molto prossime allo zero. Osservate come se i puntini qui indicati rappresentano le varie stanze di formiche, queste le varie stanze di esseri umani, come abbiamo che i campioni di esseri umani differiscono in maniera sostanziale da quelli delle formiche. Riusciamo cioè bene a discriminarli, bene a distinguerli. Questa è la fase di riconoscimento di cui abbiamo parlato all'inizio. Se tuttavia oltre che le formiche dovessimo anche distinguere dalle mosche, saremmo in difficoltà perché le mosche hanno approssimativamente altezza e peso simili a quelle delle formiche. Ecco l'esigenza di introdurre altre feature, che nel caso specifico potrebbe essere la presenza delle ali. Ed ecco quindi che i campioni relativi alle mosche si vanno a distinguere da quelle delle formiche. Ma supponiamo che abbiamo bolle, farfalle e ancora si sovrapporrebbero alle mosche. Allora dobbiamo introdurre per esempio la presenza di ali colorate e così via. Osservate come lo spazio delle features diventa uno spazio molto ricco, uno spazio multidimensionale. E questa è una delle difficoltà quindi dell'addestramento delle reti neuronali. Siano essi discriminatorie, cioè orientate al riconoscimento oppure generative, sono sempre reti che si muovono in uno spazio a molteplici dimensioni. Non solo, ma alle dimensioni date dalle feature se ne aggiunge un'altra. Per capirlo torniamo all'esempio iniziale degli esseri umani caratterizzati da altezza e peso che rientrano in una certa gamma. Quindi i loro campioni saranno aggregati in una nuvoletta come quella qui specificata. Allora alle feature, alle caratteristiche peso e altezza immaginiamo di aggiungere una colonna. Una colonna che sia tanto più alta quanto più elevato il numero di campioni che hanno altezza e peso corrispondenti a quel valore. Insomma stiamo rappresentando la media degli esseri umani in corrispondenza del picco e poi via via, man mano che ci sia tantona dalla media, avremo una probabilità sempre più bassa di trovare un essere umano con quella coppia di valori altezza e peso. Insomma abbiamo la rappresentazione grafica di una cosiddetta distribuzione di probabilità. Ecco, una intelligenza artificiale generativa deve conoscere questa distribuzione di probabilità. Per quale motivo? Perché quando va a generare, a produrre un nuovo essere umano deve proprio produrre un campione che sia possibilmente probabile, prossimo al picco e quindi correttamente riconoscibile come essere umano. Così analogamente se la nostra rete generativa conosce la distribuzione di probabilità anche di formiche e di mosche sarà in grado di produrre anche una sintetica rappresentazione di formica nonché una sintetica rappresentazione di mosca. Dunque quello che bisogna riuscire a fare è insegnare alle reti la distribuzione di probabilità ed ecco che interviene la fisica, la fisica della termodinamica del non equilibrio, le gocce, le gocce d'inchiostro. Pensandoci bene infatti, la distribuzione di probabilità che qui abbiamo rappresentato a caratterizzare ciascuna classe di immagine è paragonabile alla distribuzione di probabilità relativa alle gocce, quando ancora sono gocce. E invece cosa dire dello stato finale della goccia una volta che viene messa nel bicchiere, nel liquido, la distribuzione uniforme, quella che è facile da caratterizzare, da determinare, è una facile funzione matematica. La distribuzione uniforme ricorda il rumore, il rumore bianco, insomma l'assenza di un'immagine, i pixel grigi con livello di grigio casuale. E allora il gioco è fatto, ricordiamoci cosa abbiamo detto prima. Abbiamo detto prima la distribuzione di probabilità della goccia è difficile da terminare, la distribuzione di probabilità delle particelle diffuse è nota, è quella uniforme, e si riesce a partire la distribuzione di probabilità uniforme a ricostruire la distribuzione di probabilità della goccia passo dopo passo, seguendo l'evoluzione al ritroso delle particelle, sempre in termini naturalmente statistici, probabilistici. E allora basta ricordarsi che a ciascuna goccia possiamo far corrispondere una classe di immagini, cioè ogni goccia corrisponde ad una diversa distribuzione di probabilità e quindi ad una diversa classe di immagini, mentre le particelle uniformemente distribuite, abbiamo spiegato prima, corrispondono alla distribuzione di probabilità uniforme che caratterizza i pixel con livelli di grigio casuali. E quindi se è vero che sporcando tutte le immagini arrivano tutte verso la distribuzione di pixel rumorosa, quella uniforme, è altrettanto vero che utilizzando i metodi della fisica possiamo concentrandoci su una sola classe di immagini, su una sola distribuzione di probabilità possiamo passo dopo passo procedere al ritroso dalla distribuzione uniforme verso la distribuzione per esempio nella classe di immagini del gatto. Sentite come viene spiegato questo processo nell'articolo che nel 2015 ha introdotto alla comunità scientifica questo metodo di apprendimento dell'intelligenza artificiale. L'idea essenziale ispirata dalla fisica del non equilibrio statistico è quello di lentamente, sistematicamente distruggere la struttura nella distribuzione dei dati attraverso un processo di diffusione in avanti di tipo iterativo e poi apprendiamo e impariamo un processo di diffusione a retroso che ripristina la struttura nei dati. E allora descriviamoli, questi due processi in avanti e all'indietro. Il processo in avanti è quello che parte da un'immagine, ne avremmo di nuovo bisogno di tante immagini di dati, da un'immagine e questa immagine subisce un processo di destrutturazione, insomma è la goccia che pian pianino si sfalda e si va a distribuire nel liquido e che nel caso invece della nostra immagine equivale ad un'immagine un po' sporcata, quindi un'immagine cui si aggiunge una maschera di pixel che vanno a degradarla. Guardate come ancora riconosciamo il gatto, quindi c'è un processo graduale e di nuovo questa immagine un po' sporcata viene ulteriormente destrutturata, sporcata e così via pian pianino sempre di più. Questo è il processo in avanti. Il processo in avanti che dunque porta da una distribuzione di probabilità, quella della classe gatto, ad una distribuzione di probabilità uniforme. E questo processo però per la classe specifica, grazie ai metodi numerici ideati nella fisica, lo può essere eseguito al ritroso. E al ritroso dove ci porta? E ci porta alla determinazione di una distribuzione di probabilità, della distribuzione di probabilità della classe gatto sintetico. La vera logica di questo mondo è il calcolo della probabilità, questa branca della matematica che di solito viene ritenuta a favorire il gioco d'azzardo, quello dei dadi e delle scommesse, e quindi estremamente immorale. È la sola matematica per uomini pratici. Grazie, arrivederci.